Se si vuole scaricare un filmato da YouTube per poterlo rielaborare e inserire dei frammenti dentro un lavoro con la LIM o comunque far vedere ai ragazzi alcune parti significative senza dover perdere tempo a vedere un intero film è facile farlo con diversi programmi. Uno di questi può essere Free YouTube Downloader è facilissimo da usare perché una volta che si è ottenuto il link da YouTube per poter del filmato che si vuole elaborare basta copiare il link dalla barra degli indirizzi, cliccando col destro si incolla ed esegui Download e il filmato viene messo in scaricamento si scarica e va a finire nella cartella che abbiamo selezionato, in questo caso è quella di default quindi nella cartella di documenti DVD-Videosoft Free YouTube Download come avevamo visto prima per l'audio si può selezionare una cartella diversa e ad aspettare la fine del download per poi poterlo riutilizzare ad esempio rielaborandolo con Movie Maker in effetti vedete che qui il formato che è stato scelto per lo scaricamento è un AVI compatibile con Movie Maker